Siamo nella bellissima cornice di Palazzo Roverella qui a Ferrara in compagnia di Rita Consiglio che è uno dei tre autori del libro Poeti al Trivio che viene presentato oggi. Ciao Rita, spiegaci un poco questo libro, com'è nato? Le nostre sono tre poetiche molto diverse però il libro è nato appunto dalla nostra collaborazione perché abbiamo deciso di riunire in un unico libro i nostri componimenti che hanno anche delle tematiche che si accomunano come l'amore, l'amicizia e altri valori e quindi abbiamo pensato, dato che comunque avevamo tutti poesia ma magari non abbastanza per raccoglierle in un libro diciamo ciascuno, abbiamo pensato di fare questa bellissima raccolta unendo diciamo le nostre forze, tanto è vero che il libro si chiama Poeti al Trivio Dissonanze proprio perché le nostre poetiche comunque sono diverse. Perfetto, questa è la prima presentazione del libro, ne farete altre poi in giro appena c'è la disponibilità? Sì, credo che ne faremo altre, sì. Perfetto, grazie e buon proseguimento per la presentazione. Grazie a voi.